L'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri ha visitato ieri mattina l'ospedale di Sant'Omero. L'assessore si è in particolare soffermata in pronto soccorso e radiologia, oggetto di cospicui investimenti per poi incontrare tutto il personale. Si è complimentata per i risultati raggiunti, ad esempio dalla chirurgia, che nel 2023 ha eseguito 180 colecisti e 300 ernie inguinali e con l'ortopedia che ha impiantato 270 protesi nel 2023. Dati addirittura in aumento, secondo le proiezioni, nel 2024. Un esempio di recupero della mobilità passiva, ma anche di un incremento di quella attiva. Il direttore generale di Giosia ha illustrato gli investimenti per le grandi apparecchiature, che ammontano a 2.252.000 euro circa. Per evitare i disagi e il prolungarsi delle liste di attesa, ha spiegato, abbiamo attivato un'attacca mobile all'esterno dell'ospedale. Si è parlato anche dell'apertura del reparto di lungo degenza, previsto al terzo piano del presidio, tema molto caro all'assessore Veri perché dà risposte a quei pazienti che, conclusa la fase acuta, necessitano di un prolungamento dell'intervento assistenziale, in quanto presentano una limitazione funzionale tale da impedire il rientro a casa. Tuttavia, va all'attacco il consigliere regionale del PD, Dino Pepe. L'assessore Veri torna a Santomero e invece di chiedere scusa per le tante promesse mancate, continua a fare propaganda, afferma Pepe. Nella legge di riordino della rete ospedaliera, approvata a dicembre 2023 dalla maggioranza di centrodestra regionale, il presidio di Santomero è stato declassato. Due unità operative complesse sono state soppresse, ginecologia e chirurgia. Da anni, e ancora oggi, si attende l'attivazione del reparto di lungodegenza, da anni si promettono la PAC e la risonanza, ma non sono state mai installate, prosegue il consigliere DEM. Il presidio, baluardo per il contrasto alla mobilità passiva, arrivata ormai a pesare sul bilancio regionale per circa 108 milioni di euro l'anno, tiene solo grazie all'abnegazione dei sanitari. L'ospedale di Santomero ha necessità di personale, macchinari e investimenti, non di passerelle pseudopolitiche, che si ripetono inutilmente ogni cinque anni, conclude Pepe.